A 30.000 iscritti uscirà un nuovo video Benvenuti in questo nuovo video Io sono Matteo, voglio ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato Davvero per me significa tantissimo L'intento è sempre quello di far conoscere il vero me E oggi volevo parlarvi di lei La simpatia Se ci penso è un lato che di me nessuno conosce O almeno conosco in due o tre persone Perché sembra semplice Ma essere se stessi con tutte le persone che abbiamo di fronte Non è così facile come sembra Oggi infatti cercherò di farvi vedere Quel mio lato stupido e scherzoso Che con poche persone ho E se posso darvi un piccolo consiglio Siate sempre voi stessi Cercherò di farvi conoscere il lato simpatico Con una qualità che ancora non sapete di me Ovvero che so cucinare Cioè in realtà mi piace ma non so chissà quanto bravo Però non diciamo in giro Ragazzi, piccolo consiglio Imparo a cucinare che con le ragazze funziona sempre Quindi oggi mi è venuto l'idea Ok sono uscito L'idea è quella di preparare una carbonara all'insaluta Ma effettivamente non so come si cucina Quindi quando ho un problema Chi chiamo? Mia mamma Pronto? Devi dirmi come si cucina la carbonara Ok? Beh non lo so eh Che ingredienti servono più o meno? Guanciale Guanciale L'uovo solo il rosso Solo il rosso E? Corina e pete Mi sta dicendo che fa Capito? Guanciale che va soffritto In parte sbatti le orli d'uovo Uno per ogni persona Che no ma La paventa Calda No è Dalla pasta Ci vede l'uovo Che si vede l'uomo Che si vede l'uomo Che si vede l'uomo Va bene Qualcosa mi invento dai Dai Va bene Ciao Andiamo al supermercato Dovano abbiamo preso dieci Spero Mastino E piccolino Deve essere sicuri Le prendono altre Scusi Quando lei Per quattro persone Questa pasta Potrebbe servire Eh Che mangiate tanto Che di più Grazie mille Buona giornata Quindi prendiamo Tipo mezzo chio Dai Mamma dovresti essere figlia di me Ho fatto pure la spesa La pasta Boh Non so come uscirà Però Con dettagli Ok Quindi ricapitolando Pasta Guanciale Pecorino Uova prese Arrangiamo in qualche modo Ok Ora io sto aspettando Lisa e Luca E poi andiamo a prendere Lice che è a casa Eccolo Come state? Bene Beh Cosa c'è in mano? Una spesa Per? Eh Adesso vedi Vedo io oggi Ho la patente da due giorni Hai paura lui? Ma sai C'è la patente da ieri Non ti ho mai visto guidare È la mia macchina Tieni Ah poi c'è un rigadino C'è una delle calze Grazie Prego Credete in me voi? Sì dai Lukic No ma neanche io Guarda come è felice Lukic Oh Attenzione Occhio Occhio la macchina Sai chi c'è a casa Che ci aspetta? La Muzzolona La Muzzolona Che sta dormendo ragazzi 2000 years later Siamo guidati Va bene dai Siamo arrivati Ciao Matteo Ciao Matteo Non vi vogliamo Cazzo ciao Va bene Ci vediamo Ciao Facciamo carichi Buongiorno 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 Come stai? Vero Che pronta Guarda che tutto portato Oggi carbonara Ma la sa cucinare? Ma che cucina? Cucino io Stai pronti? No no Muzzolona Stai pronti? Basta Qualità E poi Aspetta Apri perché non so Se sono rotte o meno No ragazzi Dammi se uscino Che sono le uova No sono le uova 10 apposta Perché sapevo che C'è tutto Ma Il pepe Ho dato per scontato Che voi ce l'abbiate Apposta Ci penso io Eh pentole Scola pasta Bravo Tremuto No Diciamo Ma no All'accendo Come si fa la carbonara Come si fa la carbonara Come si fa la carbonara Pensato io Guarda Sentimento Riccola Dierning Braut And Trocchette Grazie Mamma mia che precisione Il pepe E' un po' di Sto' 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 No aspetta, non ti faccio cercare, ma non devi farlo! Matteo basta, poi è troppo! Ma il crudo non è buono, quello è? E' corto, quello Questa parte che si l'ha presa proprio Sushi? Dai! E' da te, dai, dai E' da te, dai, dai, dai E' da te, dai, dai, dai Giri la pasta Ti muovi? Matteo ora ti cuoce! Non mi metta fretta! Zucca! Dai! Ti muovi? Matteo ora ti cuoce! Ti muovi? Ti muovi? E' poco e poco! Allora, buon appetito! Buon appetito! Puoi darmi un giudizio? E' buona? Buonissima! Se non fosse fredda è fredda! A me piace la fredda! 8 10 10 Media 9 L'acqua Eh? Mi farei un applauso Mi hai fatto una fredda! C'è le stellate, scrivetemi! Posso dire? Forse a oggi La carbonara più buona che abbiamo mai mangiato Davvero? No, però ho prezzato di bene Carbonara fatta e vi è piaciuta Caffè anche? 10 Mila! Mi piace! Il Matteone offre il sushi ai Fantastici Quattro! Facciamo così, al posto che offrile il sushi a loro perché non lo preparo io? Questo sta a voi! Buona fortuna! Che A Un CE Grazie a tutti.